venerdì 7 aprile 2023 passeggiata monti lattari zona sovrastante il valico di chiunzi passeggiata sul sentiero che conduce verso il monte finestra inquadrato ora il monte cerreto e frazioni di tramonti e lì il valico di chiunzi le antenne sono sul monte sant'angelo di cava la giornata si presenta parzialmente nuvolosa con nuvole che si collocano sulla cima dei monti per cui lo scenario ne risulta condizionato questa è la cresta che precede località pietra piana laggiù dove ci sono la cima sotto le nubi con gli alberelli è la cima del monte finestra vetta nord detta anche il telefono 1138 dietro dopo una forcella c'è la cima sud 1145 più in fondo c'è quella formazione rocciosa un po bombata che si chiama aria non mi ricordo il nome aria del grano no 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 non è questo colle colle serra colle serra niente aria colle serra tra poco prima di questo colle serra quella forca è la foce di tramonti più a destra e più lontano la cima del monte avvocata laggiù è maiori credo qui a valle le frazioni di tramonti dominate dalla mole del monte cerreto laggiù il valico di chiunzi e sullo sfondo il somma vesuvio sulla pianura c'è il sole ma sulle scime dei monti ripeto purtroppo qualche nuvola dispettosa caprette senza cani la cosa è alquanto singolare però sono giunto in località pietra piana dove ci sono tavoli panche e delle semi cavità in questa parete rocciosa che regge la cresta e questo è anche un luogo di pellegrinaggio religioso dai paesi circostanti lì c'è una statua di san michele che scamazza il diavolo o il drago quello che sia è una croce legno statue e ripeto un luogo di pellegrinaggio per i fedeli della zona che salgono fino a questo punto io sto venendo da quel da quel promontorio quella roccia lassù diciamo è la nuvola la nuvola sempre sopra alla cima mi sa che non se ne va oggi vabbè già è molto che magari non piove costiera amalfitana uno scorcio sul mare laggiù sono gli abitati di ravello scala pontone credo sì ravello sicuramente e quindi anche scala e pontone frazioni di tramonti cerreto il sentiero che ho fatto io non so è in ombra non se ne riconosce la traccia nella vegetazione gira praticamente intorno a queste gobbe rocciose a una certa distanza da dove mi trovo io un centinaio di metri più in basso poco più su di dove c'è la sommità di quella parete quasi verticale quello con le antenne abbiamo già detto è il tozzo massiccio monte sant'angelo di cava la cui cima purtroppo è occupata da una selva di antenne da due grossi fabbricati tecnici a servizio telecom e altri per cui quella montagna non ha una vera e propria cima libera da manufatti alquanto ingombranti qui è la zona di cava dei tirreni con le sue frazioni 20 metri più sotto della cima c'è un piccolo capretto da solo credo si sia smarrito abbia perso il contatto con il greggio che è distante almeno mezz'ora 40 minuti di cammino non ho modo di aiutarlo anche perché numero uno non si farebbe mai prendere ma anche se venisse come me lo porto speriamo che vada tutto bene questa è la cima monte finestra detta anche il telefono la croce che affaccia verso cava dei tirreni colline orientali di cava e nella foschia i monti picentini frazioni di cava e lì il golfo di salerno con la linea di costa che si perde nella foschia la sagoma particolare del monte falerio sopra cetara e qui la cima sud di poco più alta tra le due cime la forca col famoso intaglio nella roccia la cosiddetta finestra che dà il nome alla montagna alle due cime salve e ste nuvole oggi va così questa è la croce in legno e ferro che sulla cima del telefono cima nord monte finestra che affaccia verso cava dei tirreni e questi sono gli ultimi metri in salita sul ripido sperone roccioso degli ultimi metri di salita del sentiero sergio rosa intitolato a un giovane alpinista che perse la vita arrampicando su questa montagna più o meno intorno al 1940 qualcosa del genere ed è una via abbastanza aerta e difficile che richiede assenza di vertigini uso delle mani in più punti sempre dal lato di cava dalla frazione sant'arcangelo parte un sentiero che poi si biforca in due un ramo appunto è questo sergio rosa un altro invece sale e va alla forcella che separa le due cime e questo qui sarebbe interessante provare a farlo dovrebbe presentare fino alla cima un dislivello di circa 800 metri quindi anche abbastanza impegnativo quella piccola frazione è corpo di cava su salerno il mare c'è il sole ma qui anche su cava dei tirreni c'è il sole ma qui sui monti invece come ho già detto e ridetto purtroppo il cielo è nuvoloso ma ce lo facciamo andare bene anche così a dopo rifuggetto degli amici del monte finestra è una quindicina d'anni che c'è questo piccolo rifugio che sopravvive grazie alla manutenzione di questa associazione ecco qua piccolo ma confortevole è uscito un pallido sole quindi provo a ripetere le riprese fatte poco fa quando il cielo era più nuvoloso sperando in una resa migliore sempre dalla cima del monte finestra nord detto anche il telefono 1138 metri corpo di cava la vetta sud di 7 metri più alta il quel cocuzzolo e mannaggia mi scordo sempre il nome serra serra del 1129 mi pare o 1029 1029 sullo sfondo il monte avvocata e c'è foschia comunque anche sulla costiera amalfitana in l'accidentità Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.